eccoci qui con jerry e di suoi show ciao ciao elena abbiamo seguito i punti di jerry e adesso ti accompagno contando da 5 a 1 chiedo anche agire di concentrarsi così magari fa una prova e di tutti connetti a lui e lui si connette a te 5 4 3 2 di me anche io no è scritto il conteggio fino al 2 dimmi se lo vedi sì lo vedevo già visto prima qua davanti a me e fa il vestito da giocogliere fa ruotare tre palline in mano le tre palline sono la vibrazione l'informazione la consapevolezza io appena spiega appena spiegato la pillola vick e questo l'ha colpito se vuole giocare con queste tre cose molto bene facoltà ti dà l'autorizzazione se ok prima di andare avanti però vediamo se c'è qualche disturbo alla linea e qualche qualcuno che non dovrebbe esserci già da prima entravano uscivano adesso fanno un po questa cosa per non farsi per cercare di non farsi eliminare o scoprire vanno e vengono chi i soliti militari si sono sempre chiamali tutti e tutti si mettono testa un solino ad eterno ma se ne vanno non posso andare che non riescono a muoversi vivranno troppo ok allora mettiamo comunque li spostiamo noi se li mettiamo in un portale definitivo cioè praticamente lo rispieghiamo restano come come se uno si mettesse le dita nella 220 stanno folgorati bloccati così quelli umani quelli umani sempre va bene già e come lo vedi lo vedo lo vedo che ha voglia di giocare con pic con di che e con le altre dimensioni però prima di foro giocare vorrei capire di inquadrarlo vibrazione di jerry un miliardo e mezzo consapevolezza 180 per cento di sp meno e 50 50 vite precedenti 928 cervello 10,2 ho un sospetto io l'ho già vissuta una vita con lui e stessa domanda passata allora ti vedo sì c'è una vita tu tu sei alla guida di un camion e lui dice anche a te allora io ero c'è anche tu sto cercando di capire se lo suo sorello sua moglie questa cosa è capitata no è veramente incredibile penso che fossi stata sua moglie avevamo tutti ecco eri tipo il fratello per il fratello e avevamo tutti e tre un'azienda agricola di frutta e verdura ok io poi fa facevate le consegne assieme io invece stavo alla il negozio molto strano io ho avuto questa sensazione da sti valori ma anche da all'inizio causa di questa sessione esoterica di questa sessione quindi posso dirlo qua ma mentre prima faceva i punti io ho visto come se lui diventerà un telepatah che lavorerà con noi dice lui ha provato al primo visto prima dimmi immagini veloce ho visto lui date sembra preparata perché affatti no semmai che ci siamo messi d'accordo però perché abbiamo parlato anche di questa cosa prima io sono prima che tu dicessi quella cosa lì ma prima che io chiedessi mentre descriveva il suo lavoro no no mentre scrive al suo lavoro e chiedeva me che che lavoro facesse cioè che cosa sono mi è arrivata un'immagine di lui che occhi chiusi descrive quello che vede e siccome a tempo fa avevo visto che arrivava un'altra un altro telepatah c'è stato proprio un collegamento ho detto cavolo e lui ma può anche non essere anche non essere magari lui che fa un test vede che si lascia andare in effetti dopo una sessione possono cambiare delle cose se siano i risultati del test sia nella nei timori che scompaiono nelle curiosità che aumentano ok facciamo lo giocare con la vic partiamo dalla v che la vibrazione che una delle più intelligenti quella che dà più risultati col minimo sforzo allora ci dicono mi è arrivata subito un'immagine adesso è tipo come se fossero le bocce ha tirato la v ed è arrivata ai piedi di questo lupo che avevo già visto prima lupo sì un lupo ok è un lupo che è l'interferenza che fa sicuro abbia paura degli animali un canide o no o no o è un'interferenza con un aspetto di lupo no 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 un cani dei stessi come cani leggo agnello lemb se land ok ok e me ma la nostra libera sì allora sopra c'è di zeus che in questo caso collabora con poseidone così che poseidone ancora ogni tanto chiede allora di la differenza del solito a differenza del solito è come se quasi poseidone non avesse più casa cioè il secondo universo vedo come un puntino tipo sai una cosa desidratata che non ha più infatti come l'avrà già visto un po tempo fa ma se piccolissimo che ormai vaga nell'universo ok e non ha più casa non ha più lo vedo che vaga in giro a chiedere e l'emosina energetica gli altri una mattina tu non lo sai perché l'ho fatto con monica o piazzato una una d'eternum che ho spiegato prima a jerry mamma cioè una d'eternum che ha come caratteristiche oltre vibrare forte sono un pieno di fantasia spara fuori un figlio ogni secondo quindi quindi per secondo diverso si è ritrovato pieno di ad eterno ma anche se ne andavano in giro emanando fortissima vibrazione diceva insomma monica diceva che c'erano dei gran casini nel secondo verso che stava praticamente esplodendo così si non vedo più come se fossero c'è coerenza in quello che dite cioè con una faccia una cosa e l'altra vede già i risultati ok quindi dicevamo andremo con ordine vediamo tutte le interferenze eteriche zeus posidone il lupo un canide poi poi un falconiforme che collabora che collabora un progetto con due entità mentali no con una perché una collabora con il canide che l'avevo già visto prima è un entità mentale di livello 6 dove c'è la zoofobia 6 sì ok il falconiforme invece che entità mentale a 4 ok partiamo dal 4 allora è quella che avevo anche questo visto prima e quindi una scena mi è rimasta impressa perché allora vedevo proprio lui che fa il suo progetto ok sul progetto dall'inizio alla fine inizia a fare il progetto e l'entità di livello 4 come se mandasse delle biglie che però dopo diventano come un pavimento quadrettato bianco e nero così a ventaglio ok che confonde le carte no quindi confonde come se nascondesse il progetto ok e quindi poi lui non riesce più arrivare alla fine nulla lì di quel punto dell'inconcludenza lui inizia e poi non è che non li concludi i progetti però a volte si perde si ci mette più tempo come si chiama quest'entità così da un nome tema ok a degli impianti mentali questa entità ha messo sì ce n'è uno piatto quadrato alla base del cranio già il vento proprio di tra tra dentro tra l'osso e il cervello quadrato più o meno si lo vedi come gli impianti mentali quindi tutti i fatti di elettricità sì esatto ok 6 zoofobia gery ha paura degli animali di farsene usare di avvicinarli di accarezzarli dei loro musi zampe orecchie ossa siamo una cavolata ma è un grosso handicap allora lui avrebbe avuto una capacità da subito che aveva imparato già da vite precedenti da joda aveva fatto questa esperienza già in sei vite precedenti e alla sesta vita aveva imparato completamente a comunicare con gli animali gli animali però avrebbero detto delle cose che avrebbero detto dei segreti di come funziona di come funziona tutto troppo nello specifico e lui avrebbe sviluppato le altre capacità quelle che avevamo visto come ne avevamo detto quelle sai quelle quelle perle quelle sfere che girano cos'è la capacità medianiche a capacità medianiche ok e quindi gli animali se tu riesci a comunicare con gli animali gli animali ti spiegano esattamente come puoi fare ok quindi lui in una vita passata in sei vite passate quindi diciamo all'ultima delle 6 e alla sesta di queste aveva preso completamente dimestichezza con questa capacità medianica di provare con gli animali si ok e poi che è successo poi è successo che in questa vita è arrivato con questa capacità quindi lui ha scelto di arrivare con questa capacità ok perché comunicando con gli anni ci aveva scoperto che comunicando con gli animali avrebbe imparato a sviluppare anche tutte le altre capacità mediane tutte potenzialmente ecco esatto breve elenco delle capacità medianiche allora telecinesi teletrasporto telepatia degli oggetti come si chiama telecinesi gli apporti a creare degli oggetti dal nulla teletrasporto appunto ovviamente un utilità del cervello in una percentuale altissima 90 al 100 per cento queste capacità adesso non vengono più niente comunque queste capacità sono state evidente inibite con il discorso cervello e appunto non solo parlare con gli animali non l'avevamo detto all'epoca ma in effetti è un una forma di telepatia non solo tra uomini ma anche un animale che ti dice ho paura di te quando si comporta in un certo modo è arrivato qui e con queste capacità ha trovato l'interferenza del lupo cioè se l'incanile sì che gra che collaborando con l'entità mentale di livello 6 che è la dove che controllano la zoofobia ok collaborando con questa entità fa sì che qualsiasi animale a cui lui si avvicina ne ha paura che così almeno evita gli evitano in qualsiasi modo di avere un rapporto con qualche animale in modo che non sviluppi queste capacità esatto io vedo proprio che se non ci fossero state queste interferenze lui sarebbe stato uno di di quei bambini c'era un film non so come mi ricordo il titolo che c'era un film di questo bambino che quando si arrabbiava quando si sentiva in pericolo o c'era in pericolo qualcuno proprio buttava fuori l'energia e riusciva a spingere qualsiasi cosa via ok mi è arrivata quell'immagine di lui sarebbe stato un bambino che avrebbe avuto queste capacità di leggere pensiero spostare gli oggetti tutto muovere le linee temporali cioè fermare il tempo accelerarlo ok dal lato delle dita eteriche quindi il lupo il falconiforme deus posidone ci sono anche dl se ce ne sono due ok ci sono impianti eterici allora allora vabbè ne vedo uno che due che gli hanno messo nelle ginocchia e l'hanno messo quella volta che ha avuto l'incidente sciando ok a 24 anni in tutte e due i due che non si è rotto tutte e due solo la sinistra quello è stato l'incidente per per fare l'abduction ok però li vedo lì è un calcio nel senso non è che perché si è fatto male al ginocchio sono il ginocchio è un caso che siano nelle ginocchia rispetto all'incidente non so se ma l'incidente è stato causato da un abduction quindi sì ma esatto e il ginocchio continua a avere dei problemi e nel ginocchio c'è un sì c'è un impianto diciamo c'è una correla è stato messo dopo non è stato messo lì però non è che allora non è che gli hanno fatto sì che si facesse male al ginocchio per mettergli l'impianto se lo avrebbero fatto da tutte le parti hanno fatto in modo che si facesse male ok permettere gli impianti per fare l'abduction e mettere gli impianti nelle ginocchia essere fatto male lì c'è a volte capita avevo visto anche altre volte che quando fanno quando provocano queste cose a livello fisico non sempre va perfettamente come loro prevedono ok quindi magari volevano farlo cadere e che ne so fagli far male a una caviglia oppure fargli picchiare lo su sacro non so sparo e invece in realtà è caduto in altra maniera e si è fatto male al ginocchio ok altri piatti allora allora ne ha due nelle orecchie e poi ne ha uno a livello delle tonsille che uguale c'è l'informazione che mi è arrivata è che sua mamma l'impianto a un impianto uguale è come se problema le tonsille no quei due accessi ricovero ipertrofia delle tonsille la madre che pensava di operarsi alle tonsille mentre lo aveva in grembo e poi dopo la sua nascita non abbiamo avuto questo pensiero esatto e questo fastidio che evidentemente lei sentiva le tonsille appena apne e notturne russamento questo è tutto impianto sì ma vedo che nella prima volta che lo vedo è come se fosse un cioè praticamente allora un'interferenza della mamma si collega all'impianto nelle tonsille della mamma ok che però ecco si collega all'impianto di jerry che quindi poi ci sono l'energia da jerry passa dalla mamma e va all'interferenza della mamma c'è un passaggio dalla mamma uno scarico di quell'interferenza dalla madre al figlio se all'insaputa della madre e il passaggio avviene anche adesso se è l'interferenza chi è ma allora secondo di definirlo potrebbe essere un falconiforme vedo che ha tipo delle ali quello che hai visto prima o un altro ma un po diverso tempo più un po più le sembianze umane male ali tipo falconi tipo un'aquila quindi diciamo che questo non lo vedi subito perché non è di jerry ma della madre no no lo vedo le cose di jerry se una forma questa è la novità esatto non è proprio nell'elenco delle interferenze di jerry non è quel falconiforme la che abbiamo visto dell'entità mentale quale vediamo la mano guardando la mamma dall'impianto poi l'ho visto che il gerrito ma mai viva sì ok chiamiamola che venga se vuole nel cinema a vedere la sessione chiamiamo tutti quelli che vogliono venire della famiglia di jerry la fidanzata l'arrivata padre non so se c'è è vivo non so no non è vivo mi sembrava anche ma che mi era avvenuto lo stesso mi sembrava infatti è che si è arrivato ti chiedo se vuoi chiamarlo ok come vedi padre si è seduto di allora ho visto che era disincarnato perché come se fosse un po trasparente cioè è venuto nel cinema ma traspa diverso dagli altri esatto un po più trasparente gli altri più cioè non trasparenti lui un pochino trasparente ho visto cioè si è messo dietro la mamma nella fila dietro e ho visto che era disincarnato per me era chiaro ok che fa che dice niente seduto lì in attesa che inizi in serio lo vedo con un va bene a bombetta si chiama quel cappello rotondo così è un bastone e significa la bombetta e bastone charlie chaplin si charlotte uno stile lì perché immagino che non si vestisse così qual è la simbologia che sta utilizzando che riro vorrebbe sì sì vorrebbe tornare a una vita che aveva vissuto in quell'epoca lì allora mi dice che era che lavorava era tipo il braccio destro di charlie chaplin lo vedo nel come se fosse dietro e come se gestisse l'attività di charlie chaplin in un'altra vita stessa linea temporale no come se la vedessi sovrapposta quindi retina ok anni vorrebbe appunto a vivere un'altra vita così allora abbiamo visto gli impianti abbiamo visto l'impianto prestato dalla madre abbiamo capito tutto il discorso tonsille è tutta questa cosa qua abbiamo visto il ginocchio l'artrosi causa esoterica è una sua tendenza fisica diciamo che è un po è un po diciamo accelerata aumentata dal dal passaggio di informazioni tra gli impianti l'entità mentali attraverso gli dl però è già è una tendenza sua fisica quindi deve essere sempre non si sente mai abbastanza prestante fisicamente c'è il suo apparato locomotore per lui non è mai all'altezza della sua vita ecco cioè le gambe può vivere come tutte le gambe no tutto vedo un po tutto anche le braccia quindi non è contento del suo corpo di livello in cui a cui è arrivato no più che altro della prestazione proprio c'è quindi del sostenere la sua vita delle attività della vita di tutti i giorni questa la torre va bene chiamiamola ps di jerry e chiediamole perché quella frattura 24 anni perché questa esperienza allora un po l'avevo visto prima quando ti descrivevo quella cosa dell'abduction che ho visto allora lei si è resa conto in quel momento che stava avvenendo un abduction o allora loro creano l'incidente se nessuno si accorgesse loro creerebbero l'incidente fanno l'adduction fermano la linea temporale e poi fanno tornare lì ok quella volta lì la sua ps si è accorta quindi hanno creato l'incidente hanno creato l'abduction lei si è accorta quindi in quel frangente di che però si ferma al tempo quindi un po difficile da descrivere ma in quel momento lì è come se lei avesse fatto ma avesse dato una spinta a jerry per cercare di evitare ok solo che non ce l'ha fatta perché è passato l'istante però stava sciando perché hanno fatto una black show mentre uno scia cioè non è semplice è perché in qualche modo l'abduction m da dei delle informazioni dei dati diversi di quando uno dorme dipende proprio sì dalla situazione che gli è consona a loro che ne so fanno in quel caso lì era vedere con l'informazione che da livello di vibrazione il tipo di energia il tipo di e la quantità di energia che gira intorno al corpo ruota intorno alla persona che fa questa attività e quindi come se studiassero un campione di quella energia ok quindi cercano di prenderla in tutte le persone che fanno sport in quel caso lì era gli sport in generale ok poi a volte può capitare negli sciatori se difese se c'è differenza tra chi lo fa per per professione che invece lo fa per diletto ok io non c'è col calcio ma ci sono stati in passato dei rigori dai quali dipendeva tutto tutta la coppa in questione sbagliati in una maniera assurda a volte uno non capiva perché ci sono delle sono da abduction volte no più che abduction lì è come se fermassero la per il calciatore è come se gli facessero cambiare il proprio fisico in quel momento ok allora lì ovviamente al calcio quel livello ci sono delle interferenze incredibili a volte non sono neanche più non hanno neanche più la ps diciamo i dirigenti e soprattutto i dirigenti i dirigenti delle squadre di calcio ok tutta tutta l'organizzazione così e quindi quello che vedo è che spesso le partite devono andare in una certa maniera e se invece tendenzialmente vanno in un'altra maniera a volte fanno proprio questa cosa qua fermano o fermano il calciatore o gli fanno fare un movimento che basta anche minimo impercettibile per far sì che ci sia il gol oppure accelerano per far glielo parare oppure bloccano il calciatore che è stati fondamentale moltissima gente segue in questo tipo di sport che è molto popolare un risultato ha degli effetti un altro risultato l'opposto a degli altri effetti per esempio causa esoterica della vittoria dell'italia ai europei da tutti se lo sono chiesti allora è uno scotto no allora no scotto sappiamo esatto sappiamo che a livello energetico l'italia è fondamentale no ok perché è il punto dove sotto c'è tutto quel canale di energia che ho veduto le volte che vado a vedere lo vedo fortissimo ok quindi tutti quelli che fanno parte del deep state puntano a ad avere il controllo anche ha pensato il fischio 7 sono arrivati altri due diversi gli sto già mettendo l'interno i militari e mi dimmi ok allora il canale energetico sotto l'italia quindi sappiamo che per il deep state il controllo dell'italia è fondamentale a livello energetico per tutto i loro rituali per tutto quello che hanno che vogliono fare per il programma c'è è fondamentale ok quindi è come un premio appunto che è stata data l'italia ok così salta la vibrazione goal tutti contenti non va bene è vero atti allora la popolazione tutta distratta ok e invece la società italia c'è la società sportiva italia aumenta il solo la sua forza energetica ok quindi è come se siccome lì c'è anche lì c'è il deep state è come se quella parte lì avesse un po rinforzato questo scudo che vedo che ogni tanto vedo che fu che il deep state fa sull'italia l'avevo già visto un'altra volta che avevo guardato ok quindi vedo che loro è un altro tentativo disperato per far sì che il controllo sull'italia possa continuare perché lo sanno benissimo che sapevano quando ha vinto l'italia che il loro tempo era quasi finito e quindi è un altro modo per cercare di rallentare questo tempo le provano tutte e quindi far sì che la forza della squadra italiana ma intesa come organizzazione sportiva che fa parte del deep state ok aumentasse la sua forza ok perché ha perso proprio la alla finale l'inghilterra su solo questo ragazzi un po altro anche mi ricordavo si hanno cercato di boicottare la partita gli inglesi hanno usato dei laser che puntavano sulla sugli occhi del portiere ma fosse non in quella partita in un'altra sono lo so me fai niente del calcio me ne frega di più di quanto di quanti peli a un cane che fa paura giari se assolutamente perché l'italia deve essere loro devono avere sempre il potere il controllo dell'italia quindi tutto ciò che aumenta il loro controllo a livello energetico dell'italia loro lo devono alimentare ok quindi vedo proprio come se la scena rispetto alla squadra italia ok squadra di calcio italia è come se rinforzando questo e poi infatti si ricollega mi arrivata adesso l'immagine si ricollega anche tutte le medaglie che hanno vinto le olimpiadi se non sbaglio in anni venti tanti ecco anche lì aumenta questa è come se ci fosse una copertura sopra lo stadio italia ok uno scudo che l'energia che deve rompere tutta questa questa forza del deep state fosse un po va bene balzata ed infine non dico le date comunque da un bel po di anni già reinizia un'avventura imprenditoriale con un sacco di buoni intenzioni a dei soci soci dopo un anno vedono girare dei soldi e di fatto rubano si accumulano dei debiti i soci vengono fatti fuori ma rimane un grosso grossissimo debito oggi praticamente estinto ma insomma causa di questo fatto e del fatto che oggi tra tante cose genere vuole anche un cambiare vita cambiare lavoro il posto in cui lavora la sua azienda non è mai esente da problemi già ne sta arrivando uno nuovo legato all'affitto ok vedo che una un'esperienza che ha scelto la ps ok in proprio fatto di proprio l'esperienza fatta così quindi un lavoro autonomo impresa con altri soci con tutte queste caratteristiche ok per arrivare poi dove è arrivato oggi io la vedo come se lui avesse imparato la lezione tra virgolette ok a dire vabbè sai che c'è come va va c'è proprio il fatto anche che lui sia scollegato rispetto a prima a questa cosa che doveva per forza mantenere in vita ok come se proprio l'esperienza parte da piccola poi diventa grossa quando è il momento del suo cumile del suo pieno dove l'energia della persona è al massimo rispetto a quella cosa lì dove si interdice si incapponesce su quell'esperienza ok e poi c'è la discesa e lui è arrivato alla fine della discesa quindi quello che ha già praticamente deciso lo vedi anche tu di capire lavoro cambiare vita se si pare altro se prima già quando descriveva mi arrivano immagini bene abbiamo visto tutti i punti adesso ci alleniamo adesso facciamo un piccolo allenamento un bel giambito visto che già era dei valori molto alti ed è subito stato attratto dalla vic gli insegniamo a prenderla fa la propria e gli insegniamo a costruire una d'eternum mostrerò vediamo quando ne fa uno vediamo a quanto vibra questo ad eternum l'ha fatto ci ha messo un pochino di più perché ancora quella cosa come per dire ma io non sono in grado il mio fisico il mio corpo non è in grado di farlo ok poi invece ha visto che l'ha fatto dice ma davvero fra numero non contabile di zeri è un uno con tantissime zeri al seguito ok adesso ne creo uno io sono gli stessi zeri guarda solo se sono gli stessi zeri se sono di più di meno si sono infiniti si c'è vedo che ad eternum nasce con quegli zeri lì finiti non contare quindi è imparato già e può fare due fatto un altro ok allora già arriva a vedere cosa c'è nel suo corpo emozionale con uno di questi due che ha creato in mano che verrà la scena è come se lui come se giari si inghiottisse con la d'eternum ok di dentro e da dentro mi urla fuori quello che vede ok da come in che senso da dentro di te no da dentro di lui lui è entrato in due per vedere il suo nazionale a ok è come se ci fosse un gerry grande e un gerry più piccolo dentro ok era di casa e da dentro la casa corpo ti dice qualcosa ti sta dicendo esperanza cosa bellissima allora mi dice che vede una palla appoggiata su blanca sinistra e me la descrive un po scura allora io gli faccio vedere come si chiama viene fuori che paura poi risale ne vede una più o meno appena sopra il plesso solare ok e gli faccio vedere che si chiama confusione e basta poi riesce a uscire liberamente non ci sono prima di uscire a promettere sono due paura confusione mettono in paura e lì dove c'è la paura una d'eternum lì dove c'è la confusione per accoglie la paura la confusione le butta in un portale definitivo però lascia nel suo corpo emozionale 2 ad eternum che bastano e avanzano per molto di più e ne basterebbe anche uno e per sicurezza ne lascia due lì dove c'era la paura cioè dove hai detto anche sulla no sulla sinistra e l'altra emozione dove era appena sopra lo stern appena sopra il plesso solare sullo sterno ok dimmi quando l'ha fatto ok come se appena messo prima messo le emozioni portare definitivo e l'ha chiuso poi ha messo i due ad eternum e ne ha messo uno poi pian piano la vibrazione saliva e lui insieme alla vibrazione poi ha messo l'altro e la vibrazione che saliva ha fatto come se l'avesse accompagnata come un ascensore fuori dal suo corpo c'è già di piccolo c ok adesso andiamo nella mente collettiva andiamo a dire che già riceva anche qui si deve creare zainetto dove mette due nuovi ad eternum e sono due regali per l'entità 4 e 6 solo alla fine andremo al cluster stavolta lo facciamo al contrario usando la creazione rumori di cose che friggono casino che succede stanno friggendo fanno la vibrazione aumenta e man mano che aumenta fa così e l'entità mentali spariscono vedo proprio che si sono dissolte tutte e due ed è rimasta questa vibrazione finita della d'eternum ovunque intorno all'entità mentali ok come lo vedi il la mente collettiva la mente collettiva la vedo come come se fossero tanti dischi più o meno neri c'è messi su un piano sullo stesso piano sopra a tutti gli esseri umani ok e vero che forma questo enorme disco che gira soprattutto e a seconda di qual è la interferenza mentale che devono creare mandano si collegano a più a uno o più esseri umani va bene chiama il lupo se c'è ancora lambe sì però lì si è messo a cuccia ok nuovo ad eternum in una ciotola e il lupo se lo mangia qua quando l'ha preso in bocca è come se fosse passato in tutto il corpo la mano che passasse che passava il lupo si è aperto come se fosse un fiore di vibrazione altissima si è squarciato come se fosse un fiore per poi a dissolversi ok falconiforme stesso processo 2 dl stesso processo ogni entità a un ed eternum appiccicato e li crea jerry già che ce ne mette uno nel suo corpo fisico fisico nel suo corpo eterico per gli impianti eterici nel corpo mentale non c'è bisogno l'ha già fatto uno falconiforme e 2 dl ci sono dei cloni anche uno per clone non ce n'è uno un altro clone non si diverte già e come li fa come li crea fa fatica allora in frampa lo fa piano adesso abbastanza velocemente fa così con le mani gli si forma tra una mano e l'altra ok ha riempito ne fa un po alla volta tu gli hai dato il suggerimento dello zaino quindi si è messo uno zaino in spalla e ne fa tipo una decina alla volta e poi li da ok cosa succede al falconiforme falconiforme allora diventa prima vibrazione e man mano che diventa vibrazione la parte prima si dissolve quindi ora che arriva alle zampe è dissolto tutto gli etl esplodono da dentro uno a posidone uno a zeus e si sono dissolti man mano prima dalla testa fino ai piedi ok adesso entriamo anche noi due elena e aiutiamo jerry ne produciamo decine centinaia migliaia le tributiamo tutti sullo scudo stadio italia è una rete sono equidistanti sono tutti su questo scuro che succede che lo scudo si trasforma prima nella vibrazione degli ad eterno poi la vibrazione va su tutte le persone come se scendesse su tutti gli italiani lo scudo è sparito e la vibrazione altissima va su tutte le persone sotto lo scudo ok e poi si diffonde anche sopra da ovunque che si diffonde vediamo cosa succede domani ok andiamo con jerry al cluster voglio sapere che cosa c'è al cluster a questo punto dopo questo lavoro al contrario c'è un contratto e basta quando ci arrivano prima ce ne erano più o meno uno per lì più o meno il mille mille novembre il viso la mille delis dici i contratti si se ne è uno solo legato a una vita la prima perché deve rimanere una che è la radice è fatta se un po più probabilmente ipotizzo poi su tutta questa cosa non l'abbiamo mai fatta ma come lo vedi foglio libro la storia di veri l'ho visto proprio come un contratto proprio scritto foglio scritto scritto sei un po a mano con le lettere antiche cosa recita allora ti descrivo perché mi è arrivata un'immagine più che proprio la farola l'esperienza di rimanere radicato come agli albori aspetta scriverti vedo quella vedola quel contratto lì che cosa indica in quella prima vita la che sto cercando di traslarlo in questa vita quindi è la lo vedo come se fosse c'è una persona ok persona maschio ok uomo che va come se in quel momento è a quattro zampe ma le zampe sono come incluse nel terreno non ho capito un tratto si è quella che vienza lì ok di di nuovo un animale va bene eliminiamo lo è giunto l'ora di eliminare tutto dopo che non ha fatto in questo posto dei contratti dove non si sa mai lascia una d'eterno oggi ger è una gallina che non fa altro che fare uova uova forma di pallina ok andiamo all'avatar come lo vedi quello che vedo è è l'avatar inondato però dell'energia degli ad eterno è come se lavorando la l'abbiamo fatto già quindi come lo vedi come un ologramma semi trasparente l'energia si con la vibrazione del vedo come se fosse la figura del dell'avatar ma la consistenza e la vibrazione infinita degli ad eterno e lì dove c'era l'avatar di ger è una bella ad eterno mamma cioè uno che tende a fare i figli ad eterno figli che vanno a mettersi lì intorno anche a te chiedo di alzare la visione del posto in cui siamo rivedersi vicino all'avatar di jerry ci sono avatar che c'era o c'è penso che si è andato se non c'è più di dove c'era quell'avatar di ger cerco cos'altro ma io vedo solo la d'eterno che fa tanti ad eterno che vanno agli altri avatar intorno va bene con queste nuove condizioni non ci sono più interferenze di là non c'è niente fuori da contratti e avatar non vedi più nulla ma ma nuova che vibrazione 100 miliardi nuova consapevolezza 390 per cento psp e spero siano rimasti uguali 60 la ps 40 la pie si sono sballate un pochino un po più è una cosa che ti preoccupa no 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 si si ma la vedo quando la vedo la vedo sempre positiva perché come se la ps è come se quando facciamo questo lavoro la ps fosse presente più presente più libera di andare poi dopo si stabilizzano perché essendo sulla terra riescono a stabilizzarsi psp e però come se fosse libera no come se vite precedenti 9 28 è una roba stranissima e vedo 25 25 cioè quella in cui abbiamo vissuto insieme noi tre questa è la prima volta ecco la lì c'è quella lì c'è perché se lui deve ancora farla con l'esperienza qua da oggi parte da sì in realtà da quando si è accorto del nostro lavoro e cervello 10,2 11 e mezzo molto alto molto 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 abbiamo capito che si può arrivare a 15 e nel mondo c'è solo quattro gatti che sono a 20 25 ok cinema fidanzata madre e tutti quelli chiesto sono presentati che fanno allora esultano c'è proprio così come se fossero la squadra avversaria dell'italia c'è di quella quel meccanismo lì quindi ok al cinema chi è rimasto a vedere il film di vivo disincarnato fino in fondo allora a una vick è una possibilità di crearsi una d'eterno umano personale di me no da pepe pensavamo mi chiamaggi c'era chi c'è chi c'è allora la mamma accompagna e un altro uomo ragazzo mi viene sul fratello per la nostra se ne ha sì anche poi si è aggiunto un signore alla destra del padre e ancora vivo però se anni sono i 60 65 che latino con un cappello fratello del papà potrebbe potrebbe essere anche secondo e il padre che fa uguale a prima anni uguale a prima si guarda in giro vuol dire questi cosa stanno facendo apriamo io un portale aureo e dimmi come lo vedi quando si apre vedo vedo questo cerchio e vedo sai quelle porte che fanno così che sia l'astronato sì come l'obiettivo della macchina fotografica questo l'avevi già detto tu ho detto io mi sembra come la vecchia sigla di james bond no dove si apre l'obiettivo e c'è lui che sarà che pensi si ok bene stamattina abbiamo messo un ad eternum davanti al portale auro e ne sono arrivati di disincarnati che una idea tratti facciamo anche oggi mentre eventualmente arrivano disincarnati cosa dice il padre a gerry cosa fa come lo vedi vedo sempre uguale apatico proprio c'è sempre uguale non cambia espressione e gli ha detto ciao ciao se ne andate non è stupito di questa cosa ci spiegherà perché e arrivano altri disincarnati 350 stanno accalcando bene tutti via tutti dentro se vogliono andare vanno subito se sono indecisi tornano a casa ma quelli stati quelli sono arrivati che ho contatto sono andati tutti chiudiamo il portale aureo e attenzione chiamiamo tutto l'eterico che si vuole presentare degli animali presenti sulla terra se jerry lo vuole che circondino jerry e gli parlino lui sia con il corso incontro e si è abbracciato quelli che arrivavano lì davanti che succede dimmi dimmi allora come sai come quando arriva una persona che in tanti aspettano dopo tanto tempo che non la vedono ma tante persone no quindi che gli animali che non vedono il padrone che tornato ecco le feste le fanno le feste e gli dicono a meno male che sei tornato meno male che adesso possiamo comunicare con e quindi iniziano a dire poi ci poi ti diremo come fare cosa fare quando vuoi c'è qualcuno che ti ti che dice anche qualche frase tipo per leggere nel pensiero delle persone che vi mandare una frase da una mente all'altra una testa all'altra presente l'impresa una caso è perché continuano a dirgli delle cose lo dicano che se lo dicano la tele cinesi lo spostamento degli oggetti col pensiero come si ottiene dice con la mente tu vede quello di quell'oggetto che passa da un posto la c'è di vederlo proprio la tua mente deve creare l'oggetto in tutto il passaggio dalla ala ok quindi c'è un po visualizzarlo sì c'è una tazza sul tavolo e la mente lo deve deve creare l'oggetto in tutti di tutti i movimenti fino al posto dove vuole farlo arrivare in sequenza come se fosse un vecchio cardone animato sai che facilitano grammi esatto andare esatto esatto c'è mandare proprio no la forma con la mente a livello energetico totale e gli apporti allora ti descrivo quello che vede allora l'oggetto mi è venuto sai tipo un ottaedro ok lo vedi lì è uguale praticamente da dove lo vedi nella mente lo devi far passare a dove lo vuoi vedere nella realtà quindi anche di tutti i fotogrammi da lì a dove lo vuoi vedere e questo che faceva rollo se poi dopo un po è come quando guidino se non ti rendi più conto che fai quello lo pensi la e c'è non era ok peccato che non ho mai visto una pepita d'oro sennò mi metterei a fare gli apporti dei pubblici che d'ora così mi ricordo esatto c'è magari non hai visto e la crei ma non è in realtà quello che tu volevi creare no devi fatti raccontare da qualcuno che conosci come sono fatte le pepite va bene cosa facciare con gli animali e cosa vuole lasciarsi come messaggio sono quegli animali di cercarmi calmi uno alla volta perché io sennò in confusione e non ricevo nessuna informazione ok come se gli dicesse come se la vibrazione di tutte queste di queste capacità fosse troppo alta e la confusione tutta assieme non riusciamo a gestirle quindi deve riceverlo un po la volta la ps gli dice ora nel qui e ora con questa pulizia di oggi io non ho bisogno di dirti niente tu sai già tutto e vai dritto centrata basta con l'assenza del lupo con l'assenza delle interferenze degli impianti quando e se domando jerry potrà avvicinarsi a un gatto e mi sembra l'animale più semplice cane fa le feste viene il gatto fatto un po per le sue c'è un po carino affettuoso può lasciarsi accarezzare ma non essere così molesto ma alcuni gatti si strusciano ok però viene che tipo fra 15 giorni riesce a mettere la mano a far sì che il gatto di erano cinese e poi da lì pian piano dice tutto quindi andando gradualmente facendo delle prove caute sì 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 se lui non si da oggi a qui da qui a 15 giorni non si esce dal ricordo mentale della sua paura ok quindi rimane centrato pian piano proprio arriverà a fare le cocole al gatto proprio lì che si fanno usare la mano si fa avvicinare e poi lo carezza e va bene ma come vedi jerry immagine finale lo immagino vestito da sub che sta per tuffarsi nel mare quello l'ho visto come suo lavoro già da prima già da quando scriveva i punti lo mettevo proprio il suo prossimo lavoro a che fare con l'acqua quello che mi è arrivato e poi quindi non vedo vestito da sub che ci salute diceva io vado le bombole a che fare con l'acqua va bene tu sei pronto a tornare lena guarda solo la vibrazione finale era c'è cento miliardi se 120 ok perché questo caso eccezionale abbiamo messo questi ad eterno ovunque nei suoi corpi proprio quindi adesso non potremmo provare a fare così adesso in poi vediamo come vale non va sicuramente partiva da un miliardo e mezzo normalmente siamo sui milioni 200 milioni se a volte anche nei 90 milioni anche meno anche per dicemila se questa è la scala va bene non è pronto a tornare se disconnetti ti da tutto e tutti e noi torniamo